GTB o RG we don't like cash. Cio a noi non piace il denaro contante. Con questo giudizio netto, la cortesia addetta all'ufficio turistico nell'aeroporto di Jitborg spiega perci non vengono. Accettate le corone svedesi in banconotte o monete sul bus diretto in centro o sugli altri. Trasporti cittadini. Gli autisti vendono solo a chi paga con carte di credito e smartphone. Come avviene in tanti altri servizi e attività commerciali del paese. Vari analisti hanno indicato il raggiungimento di una Svezia quasi cash-free in date tra il 2020 e il 2025. Nel ristorante e nel bar del centralissimo hotel Europa di Jitborg. Situati a livello strada e aperti a tutti. Si può notare un cartello in inglese che avvisa di essere in una cash-free area. Dove non si prendono contanti. Altri annunci simili si vedono in negozi e centri commerciali. Sono quasi tutti in inglese. I 10 milioni di svedesi risultano oggi ampiamente informati e in 5 anni. Secondo la banca centrale Riksbank. Hanno dimezzato gli acquisti con banconote e monete. Il loro importo complessivo è sceso tra l'1 e il 2% del totale dei pagamenti. La larga maggioranza degli svedesi non critica i negozianti che utilizzano la facoltà di non accettare contanti. Ormai il 95% degli acquirenti possiede carte di credito o smartphone per i pagamenti elettronici. La banca centrale di Stoccolma ha evidenziato che l'aumento delle spese con carte di credito e smartphone ha coinciso con una riduzione di diverse illegalit. Dallo spaccio di droga all'uso del lavoro nero. Ma sono aumentate le truffe informatiche. Molti pensionati hanno difficoltà a gestire i pagamenti elettronici e i conseguenti rendiconti. Online, la Riksbank considera cost tecnicamente molto difficile arrivare davvero a eliminare al 100% il denaro in contanti. Ma ci si sta avvicinando sempre di più. Giornali svedesi hanno segnalato che accettano pagamenti tramite varie applicazioni degli smartphone dai venditori di strada fino ai raccoglitori delle offerte in chiesa durante la messa. Nel mercato coperto Salualin, nel centro di Gitborg, non si vedono passare di mano banconote e monete tra i compratori e i macellaio e i salumieri. Nei piccoli botteghini interni, dove si può fare un pranzo veloce con le classiche polpette con pure marmellata o con altri piatti. Tipici svedesi. Il conto da meno di 10 euro si paga con carta di credito. Al pub ristorante The Golden Days. Sul canale adiacente alla centralissima piazza Gustav Adolf. All'ora di chiusura si può vedere una cameriera indaffarata a calcolare le mance del giorno. Non contando banconote e monete ricevute. Ma spuntando quanto aggiunto ai conti sulle ricevute delle carte di credito. Vari esperti svedesi hanno spiegato questa accelerazione verso una societ senza contanti con la fiducia dei loro connazionali per le innovazioni tecnologiche e per il sistema bancario finanziario che è il principale promotore dei pagamenti elettronici. Pire di tizi rispetto a quelli con banconote e monete. La stagione dei tassi di interesse zero o negativi avrebbe incentivato ulteriormente questo cambiamento che consente ai clienti di ridurre i costi pretesi dalle banche. Alcuni negozianti avrebbero esposto il cartello no cash anche per non rischiare di essere considerati dalla clientela in ritardo rispetto alla tendenza cosa ampia di dare l'addio al denaro. Contante, che rilancia di nuovo l'immagine della Svezia tradizionalmente all'avanguardia. Stavolta addirittura nel settore dove nel 1661 conquisti il record di primo paese europeo a emettere banconote, riproduzione RIS e IR via TALTR o su MSN. Polemica su contante, sanatoria e rischio riciclaggio, ANSA. Riproduci nuovamente video, COP23, fatti passi avanti su clima. Ma strada lunga definite le procedure per revisioni impegni taglio emissioni ANSA. Squadra 65 futa visita Sacrario Marzabotto assente giocatore che fece saluto. Romano e mostro and cancelletto 39. Maglia RSI ANSA. Niente più and cancelletto 39. Ladies and Dump. Gentlemen in metrona e sparisce ogni riferimento al genere sessuale dei passeggeri ANSA. IM più STA ZION e NON attivo HDHQSDLO. Sponsorizzato. Risparmi a 137. Nuovo Surface Pro in promozione con CoverType più Surface Mouse inclusi. Compra maggiore maggiore.